di usdt.com raga praticamente questo è un sito però più veloce rispetto agli altri siti perché abbiamo testato provandone parecchi che comunque diciamo che diventano non paganti entro due o tre settimane questo qui è molto più rapido dove voi potete praticamente investire la vostra cifra ovviamente sempre bassa perché sapete che io porto cifre basse quindi siti con investimenti bassi quindi potete investire la vostra cifra e dopo un giorno il ciclo di un giorno praticamente ritirate gli interessi allora questo sito come funziona? innanzitutto io vi lascio il link sotto dovete registrarvi una volta che vi siete registrati avete messo la vostra email la vostra password vi ritrovate in questa schermata qui allora in questa schermata innanzitutto abbiamo queste quattro sezioni la prima è l'accesso vedete voi ogni giorno potete fare il check in vi dà 0,1 praticamente 10 centesimi al giorno vedete per il check in di tutto il mese e quindi già è una fase di guadagno insomma anche se è poca però insomma gratuita poi avete la sezione ricarica e adesso vi faccio vedere praticamente con questo sito si inizia da 10 USDT che sarebbero 10 dollari circa insomma in euro 8-9 euro basta che voi fate ricarica inquadrate ovviamente copiate l'indirizzo lo portate su Binance o Inviso ovunque sia insomma ricaricate i 10 USDT a questo indirizzo nel giro di un minuto raga praticamente saranno accreditati nel vostro Binance qui nel nostro in mio vedete qui sotto vedete io praticamente ho già investito ho investito praticamente già 10 e vedete adesso ho già il ricavo di 45 quindi praticamente vi faccio vedere come funziona tramite questi livelli VIP vedete abbiamo il livello VIP 1 il livello VIP 1 che è quello che vi consiglio raga praticamente è quello più rapido ci fa investire 10 USDT con un investimento praticamente mo ve lo semplifico io raga perché qui diciamo la cifra è un po' irrisoria vabbè comunque annuale ci dice che è 164,25 praticamente sarebbero un 10% al giorno raga e voi dopo un giorno già potete ritirare perché l'investimento dura un giorno solo però raga dopo un giorno scade quindi voi potete rivenire qui nella sezione investimenti e fare di nuovo investire ora oppure scegliere di ritirare raga quindi è uguale quindi una volta che voi avete investito questi 10 USDT basta che voi fate investi ora vedete fate 10 investi ora vedete super il limite e questo ogni membro no scusatemi raga praticamente ogni investimento mi sono sbagliato io raga ogni investimento raga dura circa un giorno quindi se prendete il vipo 1 questo dura un giorno e vi dà il 10% quindi se voi investite 10 USDT praticamente ne avete un ricavato di 10.50 quindi praticamente avete un 50 centesimi di USDT mentre gli altri piani che andiamo a vedere qui sotto vedete il vipo 2 vedete dura 3 giorni praticamente l'investimento minimo e 20 USDT però aumenta anche il guadagno perché avete praticamente il 50% di guadagno praticamente sugli vipo 2 quest'altro qui dura 7 giorni il vipo 3 un investimento minimo di 50 USDT ovviamente che dura 7 giorni e vi dà il 70% quindi ogni giorno e subì ancora poi c'è 15 giorni insomma 30 giorni vedete tutti i piani vipo poi ovviamente investite ciò che potete permettere di perdere io non vi consiglio investimenti a lungo termine massimo proprio se avete insomma voglia di investire cifre più alte vi consiglio il 15 giorni che comunque 50 USDT vi dà il 50% di quello che avete investito dura 15 giorni quindi vedete avete 27,55 annuale ma andando a vedere l'interesse insomma avete il 50% quindi è ottimo dopo un giorno voi dovete solo ritirare non potete reinvestire quindi con il vipo 1 però vi dà insomma il guadagno passivo potete semplicemente però ritirare e poi ricaricare di nuovo e reinvestire perché se ricaricate dal saldo raga non ve lo fa fare quindi quello che vi consiglio è ritirarli e poi ricaricare di nuovo ovviamente nella sezione qui ricarica vedete li ricaricate di nuovo dal vostro portafoglio e rifate il vipo 1 e così raga all'infinito però è molto più rapido dura insomma un giorno quindi dopo un giorno potete già ritirare abbiamo raga oltre questo la sezione condividi vedete qui possiamo guadagnare il 10% di tutto quello che investono i vostri def ovviamente questo lo potete fare sul mio gruppo facebook raga che si chiama cash out soldi online dove di 6.000 membri e l'ho fatto per voi quindi potete farvi qualche buon referral e vi consiglio anche di mettere questo sito abbiamo la sezione anche assistenza vedete che ve la lascio pure in descrizione raga di questo video dove potete chiedere ogni dubbio raga a questa sezione qui che è un canale telegram logicamente è l'assistenza telegram non un canale quindi ovviamente è sempre disponibile adesso vi faccio vedere il prelievo raga il prelievo ovviamente flash monete per ricaricare vedete se io vado qui mi dà il codice per ricaricare in flash monete mentre prelievo vedete è per il prelievo dovete impostare la password di pagamento quindi facciamo impostazione e lo facciamo insieme vedete che è diversa raga dalla password è di 6 cifre numerica dovete inserirla quindi io la vado a inserire ecco qui confermare la password quindi la inserisco di nuovo e faccio conferma modifica vedete modificato con successo vedete aggiorna password e adesso vado di nuovo in prelievo in prelievo praticamente io posso inserire tutti i miei guadagni che dopo 24 ore raga ovviamente dal BIP1 io li posso ritirare quindi ho investito ieri sera quindi stasera io posso ritirare e vi metto la prova poi su Telegram e sul mio canale YouTube quindi noi praticamente inseriamo l'importo inseriamo la password di pagamento praticamente poi dobbiamo settare il nostro portafoglio raga vedete perché seleziona un portafoglio quindi dovete inserire vedete nessun dato ancora quindi io vado a fare più qui sopra vedete e rete TRC20 USDT quindi inserisco il portafoglio di USDT punto com raga praticamente questo è un sito però più veloce raga rispetto agli altri siti perché abbiamo testato provandone parecchi che comunque diciamo che diventano non paganti